Ciao! Questo video è per spiegarti perché dovresti abbonarti al mio canale. Beh, i motivi sono piuttosto semplici. Prima di tutto per aiutarmi, cioè per darmi una mano a portare contenuti gratuiti per tutti a livello di audiolibri, dato che comunque i contenuti più lunghi che ho e quelli più famosi non sono monetizzati, di conseguenza sarebbe un buon aiuto a un avido lettore ad andare avanti, magari comprare materiale nuovo, investire su microfoni, attrezzatura varia che costa parecchi soldi. E a parte questo ci sono anche dei piccoli privilegi. Al momento sono pochi, lo ammetto. Si ha uno sticker personalizzato e si ha diritto, solo con alcuni abbonamenti, a delle letture su commissione. Quindi dopo due o tre mesi, non mi ricordo cosa ho scritto, si ha diritto ad avere 15 minuti di lettura da parte mia, quindi che si può utilizzare per uno spot pubblicitario o per qualunque altra cosa, se vi piace la mia voce o il modo in cui leggo, e che altro. Più avanti ho intenzione di portare dei contenuti esclusivi per gli abbonati. In questo momento non ho, sarò sincero, non ho capacità di tempo, in quanto io lavoro, faccio altri lavori, per fornire materiale costante agli abbonati, però ho intenzione di mettermi avanti. Quindi magari, per esempio, con gli appuntamenti settimanali, mettermi avanti di uno o due capitoli per solo gli abbonati, quindi che chi paga una cifra mensile potrà vedere un video magari in anteprima rispetto agli altri, oppure addirittura intere saghe dedicate a voi, se il numero di abbonati sarà decente. Ecco, se avrò un riscontro sufficiente, magari potrò anche decidere di dedicare buona parte del mio tempo, sacrificare altre cose che faccio per portare contenuti esclusivi per voi. Quindi ragazzi, fondamentalmente, se volete aiutarmi, iscrivetevi al canale e abbonatevi. Sarebbe bellissimo. Un piccolo contributo mensile che va dai 2 euro ai 5 euro ai 10, oppure ho messo anche una tariffa per Elon Musk, che dovrebbe essere circa 500 euro al mese, quindi se, signor Elon Musk, mi stai guardando, ti chiedo di abbonarti gentilmente. So che ascolti i miei audiolibri in italiano. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene a prescindere, mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, parlatene con gli amici e semplicemente esistete. State qui con me. Vi voglio bene. Ciao.